A Palazzo Cisterna, nel cuore di Torino, oggi c'è Giuseppe Calabrese, conosciuto al grande pubblico come Peppone, conduttore di linea verde. Cosa ci fai qui? Sono qui perché stiamo raccontando la comunità canavesana, in particolare questa bellissima realtà delle tre terre canavesane, questi tre paesi che ci sono messi insieme, hanno applicato quello che tutte le comunità vorrebbero, cioè fare rete. Lo stanno facendo in maniera armonica e noi siamo contenti di andarli a raccontare. Ci sarà una puntata di linea verde dedicata a questi paesi del canavese. Esatto, Aie, Castellamonte, San Giorgio e qualcun altro la vicina e quindi racconteremo chiaramente Aie con la sua splendida reggia, poi le stufe di Castellamonte e poi ancora la piattella di San Giorgio e tutto quello che quel paese, quei luoghi offrono. Quindi possiamo dire che anche linea verde ha scoperto la bellezza del canavese, del nostro territorio, si può fare turismo anche da noi? Gli autori e i registi sono stati rapiti dal canavese e quindi ora io e Beppe Convertini veniamo a raccontarla con grande gioia e con l'autenticità che è proprio tipica di linea verde.